Nello spazio claustrofobico di una qualsiasi classe, di un qualsiasi istituto, un professore parla con fare serie dittatoriale di ordine e disciplina mentre appunta quelle due parole sulla lavagna. Dopo aver riposto il gessetto sul bordo in legno e dopo essersi scosso le mani, si rivolge ad uno di loro e puntandogli il dito gli fa «Roselli, venga qui» e scriva cosa rappresentano per lei queste due parole. Sbuffando aria attraverso la sua maglia a mezza manica e i suoi jeans strappati, l'alunno raggiunge il professore, l'osserva e da mano nuda strisciata sulla lavagna cancella quelle due parole, si dirige verso la porta e giunto sull'uscio gli fa «Il nulla più totale». È sempre stato così, Nico Roselli, un eterno ragazzo ribelle, una di quelle persone di cui nel calcio, così come nella vita, si avrebbe sempre bisogno. Una persona cattiva in campo ma gli alle fuori, uno di quelli che hanno un codice d'onore di tutto proprio. È sempre stato contro tendenza, infatti, il fantasista barese di tutto genio e sregolatezza e il suo pregio più grande è stato proprio quello di essersi mantenuto sempre coerente in tutta la sua carriera. Una carriera vissuta sempre a mille, una carriera fatta di colpi di classe, di genio e colpi di testa, una carriera fatta di gol fantascientifici e di cartellini rossi diventati quasi un marchio di fabbrica, una carriera in cui si è fatto strada da solo, potendo contare solo sui suoi due amici inseparabili, il piede sinistro ed il pallone. Col primo ha costruito le proprie fortune ed ha incantato tutti quelli che hanno potuto ammirarlo. Quello stretto in chissà quanti scarpini, infatti, non era solo un piede, ma infiniti modi di disegnare calcio. Il secondo, invece, era l'inchiostro che gli consentiva di lasciare una traccia indelebile del suo passaggio su ogni campo calpestato. Traccia indelebili, dunque, come su 8 anni di carriera con la maglia nero verde, conditi dalla vittoria di tre campionati e di una Coppa Italia con tanto di doppiata da brividi. Gol che resteranno per sempre nella storia del calcio vitontino ed in quella di un ragazzo che, nonostante abbia sempre fatto parlare di sé, non ha mai fatto conoscere davvero a tutti che ha preso una splendida sia davvero Nicola Roselli.